Salve amici, oggi siamo qui con un video un po' particolare, sono qui con mia figlia Blu perché vogliamo presentarvi un'iniziativa di Children4You, che è un'iniziativa che nasce per raccogliere fondi per i sanitari, medici e infermieri deceduti in questo periodo di questa terribile guerra contro il coronavirus. Questo Children4You nasce per raccogliere fondi attraverso le opere d'arte dei nostri piccoli artisti e quindi mia figlia racconterà ai vostri piccoli artisti quello che possono fare per questa iniziativa di Children4You. Allora, per i bambini possiamo fare dei pezzi d'arte che possono essere disegni, dipinti, sculture, foto e anche poesie che poi andranno messi su questo sito web. Che delle persone ci possono andare sopra, andare a vedere dei pezzi d'arte che gli piacciono e poi invece che mettergli un like, fanno una piccola donazione. Quando tutto questo sarà finito, prenderemo tutte le donazioni e le daremo alle famiglie dei medici o infermieri che hanno perso la vita mentre stavano cercando di aiutare la nostra. Molto bene. Questo spero che sia un'iniziativa che raccoglierà al vostro favore. Alla fine di questa raccolta organizzeremo anche una mostra dove naturalmente verrà dato un premio all'artista, al piccolo artista che ha ottenuto la maggior raccolta di fondi. Bene, chiedo a voi di diffondere questa iniziativa di Children for You perché è un'iniziativa che nasce dai bambini, dal cuore dei bambini, dalla loro capacità artistiche e potrà aiutare quelle famiglie che hanno perso i loro cari in questa durissima battaglia. A presto e grazie. Ciao!